Ben trovati, scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti di Tracky News. FaiService ha presentato le nuove carte multiservizi Tracky Card studiate e progettate per andare sempre più incontro alle moderne esigenze del mondo dell'impresa. Le Global Card a targate Tracky affiancano il professionista nelle varie operazioni lavorative in Italia e in Europa. Sono un valido sostituto alle molteplici carte in circolazione per pedaggi autostradali, carburante e acquisti. Sono un mezzo di pagamento, una carta di credito, una tessera identificativa, una Fidelity Card e consentono agevolazioni, sconti, risparmio di denaro e di tempo. Continental presenta con il motto Tradition Trust Transformation i nuovi head-up display per autocarri e pullman. Il loro grande vantaggio è quello di consentire al conducente di visualizzare informazioni rilevanti per la guida senza distogliere lo sguardo dalla strada. Continental offre alle case automobilistiche due versioni di head-up display. La versione HUD su parabrezza è pensata per i veicoli USA con parabrezza più diritto, mentre la versione HUD combiner proietta le immagini su un pannello trasparente posto davanti al parabrezza, variante adatta ai veicoli più diffusi in Europa con parabrezza inclinato. Nel caso di guida autonoma il conducente in questo modo può ricevere tempestivamente informazioni sulla manovra pianificata dal veicolo. Se avete un canter allora potete effettuare un intervento di assistenza usufruendo di un voucher sconto del valore di 150 euro a partire da una spesa minima di 300 euro IVA esclusa. Sono esclusi gli interventi coperti da accordo assistenza, garanzia e correntenza. Come si fa? Recatevi in uno dei service che aderiscono all'iniziativa e presentate il voucher. I tecnici sono a vostra disposizione per indicarvi l'intervento più utile per garantire al canter prestazioni sempre al top. Per conoscere i service aderenti e scaricare il voucher visitate il sito fusotrucks.it. Avete tempo fino al 30 novembre 2016. Non perdete quindi questa opportunità per il vostro canter e per la vostra sicurezza. Vi aspettiamo presso la rete ufficiale di assistenza Fuso. CGM, distributore unico di Cat Lift Trucks in Italia, ha annunciato che i carrelli elevatori diesel della gamma DP40-55N ora sono equipaggiati con un nuovo motore a basse emissioni caratterizzato da alta densità di potenza, alta affidabilità e costi di esercizio contenuti. E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento, grazie, arrivederci.